. Uomini e donne, segnalazioni su Angelo, amici o amanti? Il cavaliere del trono over è stato ripreso più volte a cena con ragazze diverse. Uomini e donne, amici o amanti? Questo è il dilemma. A Gianni Sperti è arrivata una segnalazione su Angelo, il bel cavaliere del trono over. Un filmato fatto con il cellulare mostra Angelo a cena con una giovane ragazza. Il protagonista della vicenda si affretta subito a precisare, è solo una ragazza, che conosco da tempo, famiglia compresa. Siamo solo amici tutto qui. Anna, ex fiamma di Angelo, replica, adesso credi nell'amicizia tra uomo e donna? . 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